Fere, ma quanto sei diventata bassa? Quanto sei diventato alto tu? Eh, lo so, qui in vetta si sta benissimo, sto facendo prendere un po' di aria i miei capelli verdi, così diventano ancora più verdi, Fere. Scendi subito, dai che abbiamo un si può fare bellissimo da fare oggi. Fere, ma dobbiamo farlo proprio con questa palla, quindi devo restare qui sopra, mi spiace. E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki. E io sono Stef, che soggi che mi ha GTA 5. E siamo qui tornati nel nostro server moddato per un nuovo bellissimo si può fare. Fere, non è un nuovo bellissimo, è il primo si può fare nel server moddato. A versi di questo server, certo, certo, certo. Quindi è un qualcosa di speciale. Allora, ne abbiamo davvero tanti, alcuni proposti di voi, altri un pochettino inventati. Questo qua da cui partiamo è inventato da me e sono curioso di vedere se buttando giù questa palla posso arrotolare insieme questa giù dalla montagna. Ma quindi la butto giù a calcio adesso, me lo puoi fare. Se ci riesci è già un dubbio anche quello, puoi buttare... Fere, il personaggio di GTA che non si muove dove dovrebbe. Allora vado dritta e vado. Sì, vai, colpisci. Ma con un pugno ti fai malissimo, Fere. Aspetta, ce la sto facendo. No, lo vedi solo tu, lo vedi solo tu, come pensavo. Oh, no, 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 non cadere, che ci ho messo a dare a salire. Fere, spostati un attimo che devo far esplodere con la G4. Ma lo volevo fare io, perché non mi fai esplodere le cose? Perché tanto lo vedresti solo tu, ho sbagliato. Ti stai per fare auto esplodere? Sì, sì, aspetta, aspetta, facciamo così. No, ma adesso cade la palla. Aspetta, la devo inseguire. Palla, vieni qua. Palla! Sto per prendere i poveri turisti. Scappate, turisti. Aspetta, aspetta, ce la facciamo. No, non ce la facciamo più. Palla! L'ho persa, l'ho persa. Si è incastrata. No, 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 sta rotolando, sta rotolando. Allora, che ne dici di fare un si può fare serio adesso? Di fare qualcosa di realmente bello? E dovremmo rotolare. Piuttosto che te che rotoli insieme a dei palloni. Dobbiamo rotolare da una montagna, ma non con una palla. Sei pronta? Grazie, grazie. Mi sembra giusto farlo con qualcosa di più sensato. Vai, con cosa lo facciamo oggi? Con un furgone. Questo mi piace. Nel Monte Ciliad. Però prima di tutto dobbiamo andare. E dato che dobbiamo volare, non vi facciamo vedere noi che vogliamo, perché è troppo bello, quindi non vi meritate di vederlo. Mi piace. Ma non è vero! No, è bellissimo volare. Guarda che bello quando vola, no? Si vede tutta l'animazione del personaggio. Sembra uno stoccafisso. Ferre, ne ho evocato qualcuno di troppo, scusami. Steph! Dimmi, Ferre. Mi hai fatto diventare uno maccione pieno di muscoli. Non so perché mi sono trasformata. Mi vedi? Sì, ma perché ti sei trasformata? Non lo so. Mi hai tirato un camion in testa e io mi sono trasformata. Vabbè, entro in questo camion qui. Il più semplice. Ma ti stai muovendo? Sì, sì. No, Ferre, non ti vedo muovere. Devi ammazzarti e tornare perché ti vedo immobile davanti a un camion. Vado a buttarmi dal monte, aspetto un attimo. E' un attimo. Mi arriva a fare la drastica, lei. Guardate i consolini in questo server quanto è facile entrare. Io faccio così. Faccio così. Poi faccio cosa? Ho aperto proprio gli sportelli e non li volevo aprire. Vabbè, vabbè. Comunque, opla, sono dentro il camion. Senza carri armati e bug incredibili. Tac, e siamo già dentro. Dai, Ferre, ti sto aspettando. Forza. Sei pronto? Sì, Ferre. Vado, vado. Ok. Ok. No, 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 no. Sono uscito fuori. Mi ho abbandonato in questa discesa infinita. Mi vedi cadere? Ah no, cadì anche tu. Perfetto, 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 perfetto. Oh, mamma mia. Quindi abbiamo scoperto che le porte non ci tengono dentro il camion. E l'avevamo riparato e quindi era proprio come se fossero totalmente chiuse. Sì, era tutto totalmente chiuso. Quindi volando si aprono e volo via. Ok. Io però ti dico una cosa. Sì? Sono salva. No, vabbè, quello sì. Quello di questo monte è incredibile. È ripido, ma non muori mai. Io ti giuro, ero convintissima di morire, proprio di morire. Una volta arrivata a terra, invece sono qui. Sono salva nel mio furgone. Ciao, Ferre, ti vedo. Ah, mi vedi ciao. Ma anch'io sono vivo, non so bene come. Sto benissimo. Un altro si può fare che ci avete chiesto è quello di trasformarci in animali acquatici, sia nella terra, sia in acqua, per vedere se appunto nella terra moriamo. Ah, sì, sì. E invece vedere poi come appunto reagisce l'animale sott'acqua. Esatto. Adesso lo proviamo, però prima di iniziare chiariamo subito una cosa, perché nel primo video, modatto, ci avete chiesto in parecchi come si fa un server del genere. Ragazzi, purtroppo noi vorremmo spiegarvelo, ma la realtà delle cose è che in questo periodo credo che molti di voi se ne sono accorti ci stanno copiando parecchi video. Proprio uguali, identici. In location, modalità e copertine. Quindi un attimino abbiamo bisogno di tenerci alcune cose strette, perché altrimenti qua ci copiano tutto e sinceramente non è tanto giusto, perché comunque una cosa come questa Luca l'ha preparata in tante ore di lavoro e il fatto che qualcuno arrivi, schiocchile dita, se la chiappa e se la usa, non è giusto nei nostri confronti. No, soprattutto anche nei confronti di Luca che ci ha fatto questo favore. Niente polemiche, non ci piace farle, però mi dispiace, non possiamo spiegarvi come fare. In futuro, se in qualche modo comunque sarà possibile, ve lo spiegheremo e magari organizzeremo anche un server dove siamo tutti insieme per divertirci. In ogni caso, adesso proviamo a trasformarci. Allora, che animale vorresti da acqua, un pesce? o un delfino? Sono indecisa, perché so come sono. Senti come è subito seria quando si parlano di animali. Quindi stavo un attimino decidendo la mia scelta. Allora, penso di voler fare... Io vado di delfino. Aspetta, io voglio fare la balena, sono quasi sicura che ci sia, perché ho visto che è proprio gigantissima e quindi... E poi chi sta in acqua e chi sta in terra? Allora, no, proviamo entrambi. Cioè, vai, provo io. Vado? Ok. Delfino in terra. Non credo possa sopravvivere. Via. Sono morto. Ferre, sei pronta? Sì. Delfino! E infatti in acqua si può stare. Glug glug glug! Che bellino! È troppo bellino il delfino! Aspetta. Aspetta, voglio fare una cosa anch'io. Ci sto riflettendo un attimino. Ferre? Ti stai trasformando in uno squalo? Ferre? Dove sei bella? Dove sei tu? Ferre? Mi sono appena trasformata in un'orca assassina, quindi se stai avvicinando con lo squalo, io ti sbrano. E infatti lo sapevo perché sei prevedibile. Ma mi hai ucciso? Non credo. Cos'è successo? Non lo so. È successo che mi hai fatto crashare il gioco! Davvero? Perché? Perché sei venuto lì a mordicchiarmi? Perché? Perché sembravi buona! Guardate che bello che è comunque. Ma anche l'orca di Ferre è bellissima. Anche se è rimasta lì, poverina. Comunque non abbiamo ignorato tutte le vostre richieste di fare una serie con gli animali. Stiamo pensando ad una vita reale un po' particolare. Vediamo un po'. Allora, posso dirlo? No. No. Ho letto un commento di un consolino fantastico su una possibile vita reale. No. Non lo spoilero, ma dico che l'ho letto. Esatto. E quindi ci stanno vedendo tante idee particolari. Non è ancora nulla di garantito, ma è probabile che uscirà fuori qualcosa che ha a che fare con gli animali su GTA V nel severmo dato. Quindi preparatevi. E comunque no. Gli animali acquatici per terra muoiono, mentre in acqua si possono muovere, possono attaccare, possono fare tutto quello che vogliono. Quindi anche questo si può fare. E infatti guardate che animazione fa quando attacca. È cattivissimo lo squalero. Davvero? Guardalo. No, non lo volevo vedere. Preferisco non vederlo, grazie. Rimango. Ciao, Fede. Prossimo si può fare, prossimo si può fare. Si può bruciare slash fare esplodere lo yacht. Quindi viene considerato come un veicolo gigantesco o diventa direttamente una costruzione che appunto non può esplodere o prendere fuoco? Da dove inizio? A dare fuoco? Da dove posso iniziare secondo te? Nessuno ha detto che devi farlo tu, Fede. Allora, prova a togliermi questa felicità, guarda, e non farò mai più un video con te, te lo dico. Allora, tu magari parli e nel frattempo inizio a pensare all'arma perfetta. Inizia a mettere, provando a mettere fuoco. Quindi ho molotov, ho tannica. Se non prende fuoco, proviamo con granate, eccetera, eccetera. Io direi molotov, vado? Ah sì, comunque, PS, nel severo modo atto lo yacht è più figo di quello reale perché è quello del single player e ci sono tutti gli interni. Abbiamo anche lo yacht più figo. No, no, ma volevo dire una cosa. Sì, ci faremo un nascondino, preparatevi. Uh, è vero, già lo spoiler. Allora. Hai inizio? Sì, sì, vai, vai, Fede, vai, Fede, vai, Fede. Mi stavo giusto perdendo visitando un po', non mi ricordo da dove si vedevano gli interiori un po' più fighi. Gli interni, no? Gli interni. Fede, ma dalla piscina stai partendo? Sì, hai preso fuoco. Ok. Ok. Va bene. Allora, l'obiettivo è farlo proprio salter in aria? Sì, quindi tiramolo tu ovunque. Ti inizio a dare una mano perché qua serve una mano perché è davvero gigante. Diamo fuoco ai divanetti a tutto quanto. Io penso alla parte alta. Ok, vai. Allora, forse è un po' esagerato, eh. No, vai. Le fiamme stanno divampando. Vai, Fede, vai. Tutto deve bruciare. Allora, qua si è già spento il fuoco. Ho notato nella piscina, infatti, che si è già spento. Aiuto, no, 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 non voglio bruciare. Aia, che male. Muoio, 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 muoio. Si è autogisa oggi. Allora. Muoio. Io direi una cosa. Brucia, brucia. Ok. Come l'hai detto? Perché volevo dire bruciare, brucia. Però mi è uscito un brucia, brucia. Quindi bruciare, brucia, però non arriva ad esplodere. Quindi per ora non sembra come un veicolo. Adesso invece proviamo magari con un bel lanciamissili. Infatti sto arrivando per l'occasione. Aspetta. Vediamo se in quel modo funziona. Eccomi prontissima. Figuriamoci. Allora. Se si perde qualcosa. Sto pensando. Sto pensando. Questo è bellissimo perché nel GTA normale non ce l'ho, quindi voglio usare questo. Allora, vai. Divertiti. Per ora no. Per ora no. Ti do anche io una mano a spararne un po'. Allora. Però, scusami, vieni di sotto. Qua sotto c'è la zona motori. Se c'è una parte che deve esplodere di uno yacht. Di farlo esplodere dal cuore. Esatto. Ok. Ha preso fuoco però. Guarda come sta bruciando tutto. Fai attenzione che qui sto usando armi pericolose. Sì, lo so. Ti sto rimanendo alla larga perché so quanto sei pericolosa. Non si può fare esplodere, ma si può far bruciare. Non fino ad esplodere, ma prima o poi si spegne. Però prende bene fuoco, devo dire. Prende bene fuoco. È interessante. Sì, perché ci sono cose che si spegono prima e cose che si spegono dopo. Questo brucia per parecchio. Mi sa che bruci un po', però no. Effettivamente non si può fare esplodere. Ok, interessante. Andiamo al prossimo si può fare fare due si può fare a tema con l'animale. Prima di tutto. Ciao, fare. Smettile e non mi aggredire come hai fatto nell'altro video. Stai buono lì. Giuro che non ti aggredisco più. Stai buono lì. Ho visto il video di Espy e mi è piaciuto molto quando si nascondeva da ginghiale. L'ho apprezzato. Io invece ho scoperto di potermi caricare. Di fare il pug. Lo sai che su Instagram ci hanno mandato una foto di un pug carinissimo con scritto ecco sono pronta a giocare il prossimo nascondino su GTA con il loro pug. È stato bellissimo. Mi ha fatto troppo ridere. Comunque, prima cosa. Quando sei animale puoi utilizzare le armi. Sto premendo tutti i tasti e non mi dà le armi. Quindi no, da animale non si possono utilizzare le armi. Però posso morderti. Fere. Fere, fai da brava che mi stendi. Oh, mordicchia parecchio il pug. Lo so, è cattivissimo. Invece, l'animale può salire nei veicoli e guidare? Vediamolo subito. Oh, lo sapevo che succedeva questa cosa. Io l'avevo già visto nei video in single player. La cosa per interessante, ma credo che sia prevalentemente un bug di questo server, è che se vedete posso far ruoteare le ruote, possiamo starci dentro, eccetera, eccetera. Però non possiamo guidare. Ma davvero? Io con certi animali invece sono riuscita a guidare. No, no, non è vero. Aspetta. Non è vero. Prova a scendere perché secondo me sei troppo gigante tu. Vediamo se il pug può guidare. Allora, aspetta. Vai, vai, Fere. Non guardate i bug. Fate finta di non vederli, vi prego. Vabbè, però è bello. Lei dice di poter guidare. Vediamo? Vediamo. Hai visto? Gira le ruote ma non parte. Ma secondo me se rubi una macchina funziona. Aspetta. Mi spiace dirtelo, ma non posso fare nulla neanche qua. Accidenti. Non so perché. Forse me lo sono sognata di guidare un'auto con un animale. Può essere di notte, ho fatto un sogno. Molto probabile, sì, ho fatto un sogno molto strano. Vediamo, vediamo. Io però ci rivolgo un attimino. Addirittura in questo io non riesco niente a far girare le ruote. Quindi addirittura posso fare meno rispetto a quelle esponate. Fere, funziona. Fere, ce l'ho fatta. Cioè, stai scherzando? Come hai fatto? Non mi vestirei. Rubandola a una persona vera. Ecco, vedi che te l'ho detto che c'era il modo, lo sapevo. È bella. Allora, quindi si può guidare... Che bello che con la decapotabile non sbatto. Guarda come siamo messi. Ti dicevo, comunque parlando di cose serie. Sì. Quindi si può guidare una macchina quando la si ruba a una persona. Esatto, esatto. Quindi non ferma, non spawnata a una persona. Quindi, Consolini, state tranquilli. Se il vostro animale non ruba una macchina, non la può guidare. Se invece la ruba, state attenti perché potrebbe stracciare velocissimo. Soprattutto, Consolini, se in autostrada beccate un cinghiale che guida una macchina, tutto nella norma. Non vi preoccupate, tutto nella norma. Assolutamente. Comunque direi di fermarci così perché questo video è stato davvero fantastico. I si può fare nel server mod dato sono un qualcosa che va oltre. E sono infiniti. Sono infiniti e sono, secondo me, fantastici. Quindi nei commenti continuate a proporcene tantissimi. Vogliamo vederne davvero, davvero tanti proposti. Mi raccomando, tante cose originali, di tutto, di più. Mi raccomando, mi raccomando. Tanti likes, sondaggino, commenti, tutto. E ci fermiamo così. Spero che sia l'idea così. Lasciateci un like. E se è la prima volta che vi ho detto il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.